Hey, ben ritrovati dall'Andrea Link 91 e bentornati, dopo un bel po', sulla Zoom Eleven Go Strikers 2013. Non è una novità il fatto che dovessi portare Strikers fino alla fine, ovvero fino alla fine dei tornei, dato che mi ero preso questo impegno, e ho finalmente un controller che funziona, rosa, però a 10€ non è che potevo pretendere anche il colore strano, eh. Insomma, anzi, è pure troppo 10€ un controller originale che funziona. Comunque sia, la squadra bene o male è quella dell'altra volta, con l'unica differenza che ho fatto il legame massimo tra Sean, Jude e Xavier per portarli a fare il Big Bang, il grande fuoco, mi pare in italiano. Quindi, andiamo a fare i tornei che ci sono rimasti? Che tornei ci sono rimasti? Ah, erano 7, 8, no, ah, il 6, questo è il sesto. La squadra è questa, ho preso anche Sun, che è dei distruttori, ed è forte. Penso che comunque sia lo metterò, lo cambierò, metterò più vicino Mark e Dylan. Comunque sia, devo ancora aumentare il legame di Mark e Dylan per portarli a fare poi Grand Ferrier insieme a Eric. E dovrei aumentare anche il legame tra Eric e gli altri due, è un po' un casotto. Allora, non mi ricordo nulla, eh, in fondo sono passati solo due mesi. Ah, ecco, così correva, così, i tricks, i trix, toh. Niente, si carica dopo che ho tirato, eh, giustamente. Non è che potessi pretendere chissà cosa, però attenzione perché Arion stava andando in Miximax, eh. E se qualche volta uso i nomi giapponesi, ragazzi, non prendetevela, ma... Ma sono abituato male. Forse. Hiroto! Ah, non ce l'ho con lui, ce l'ho solo con Hiroto, l'ho attivato? Ma sono un babbo, allora. Ah, vabbè. Raa, perché è cattivo. Oh, lentino. Eccelento breast? No, sì. Niente, mentre moriva il continuava a parlare, bravo. Così mi piace il portierone. I Temas vanno al calcio di inizio. Sì, vabbè, si può anche dire. Oh, allora. Dov'è, dov'è il Giud? Arion! Che tu sia maledetto! Intercettatissima, proprio... Perfetto, eh. Proprio perfetto intercettamento. Lai! Oh! Eeeh! Aaaaa! Aaaaa! Paura! Future Eye! Ah no, ehm... Quello che ruba, non Future Eye, è diversa. C'è qualcuno... C'è qualcuno dei miei? Grazie. Un po' tardi... Di... Un po' tardi, però... Arriviateci. Ok, vabbè, vabbè. Fractal House. Animal House. In due, qualcun altro ci voleva, dai. Che fa? Ah, ecco, ecco. Magneto Draw! Sì, vabbè, però, anche voi. Dei Antas Netto? La difesa sale un po' troppo per i miei gusti. Sì, vabbè, 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 vabbè. Ma sul serio? Perché non l'ha presa? Eh, vabbè, è fissato questo, questo... Ah, Gonshu? È Gonshu? Ah, sti cavoli! Eh, non lo so! Un po' esagerato, eh, per i miei gusti. Ho, 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 ho! Una palla di fuoco che ti arri... Eh, ma sì, ti apre questa, zio. Ti fa un buco proprio così nello petto. Vatte via, scansati. Bigguban! E poi sì, io avevo la mod italiana, però avendo cambiato computer, non ce l'ho più. Oddio, cambiato! Upgradato! Un upgrade sostanzioso ho fatto. E quindi niente, la mod non ce l'ho più, l'ho cancellata. Bah. Anche perché causava dei piccoli bug grafici, alla fine. Ho preferito levarla. Allora, con lui potrei tirare? Ma no! Ah, cavolo, vorrei tirare con lui, ma non ci riesco. Magneto draw! No, per dispetto tiro con lui, va. È una partita strana, ragazzi, eh. Però vinco io qui. Bush in defense? Bella questa, raga. Vabbè, Nathan the Dark Emperor, orse è... È lui. Cioè, mi ha preso il pixel del carcagno, non lo so. Sì, va bene. È lui, è lui! Jack in the Box. Jack in the Box era una citazione al Jack in the Box. Vabbè, vabbè. Voi che ne sapete, voi. Troppo giovani. 3-0 e siamo ancora a primo tempo. Vai, ground defense. Com'era questa? Ah, niente, non lo saprò mai, perché mi ferma lui. Skywaku! Uwok! Che bello, i giapponesi che non sanno parlare l'inglese. Sì, Bounce Rabbit, va bene. Beta. Come beta. Ha detto beta il commentatore. Buono, non lo so. Hai rotto, eh? Temma, hai rotto. Hai rotto il cavolo. Hai rotto il pipo proprio, ok? Ah, Snow Angel, ecco. Ice Ground invece era l'altra. Non è carico nessuno, però lui sì. Lui è bravo. Eh no, te lo scordi. I casenai lo dico io. Che poi erano a casero, vabbè, però... Scrivo in una cosa, ne dico in un'altra. Ah, sti giapponesi. Tiro! Devo fermarli. Cosa vuole? Guarda, lo voglio far fare. Contemma, ok. Ah! L'ha ridetto, beta. Beh, vorrei vedere. Ma finisce sto primo tempo? Guarda, voglio tirare giusto per spizio. Ok, siamo con Jude. Jude ce l'ha il tiro? Uno dovrebbe avercelo uno, ma non ne sono sicuro. No, quanto mi sa che non ce l'ha, però. Forse è quello doppio, ma con chi? Con chi glielo ho messo? Boh. Che poi è predefinito. Non è che posso sceglierlo... Non è che posso sceglierlo, perché purtroppo... Ma dai, ma stava lì! Che c***o disattivi? Sei scemo? Eh, vabbè. Eh, cenere nera. Guarda, ci voglio provare lo stesso. Ci voglio provare lo stesso anche con lui. Shoot or break? Buono, buono. Non c'è nessuno? Ok. Eh, sì. Ero troppo vicino al nemico. Uh, regendo. Però... Richiamo del lupo, secondo me, è più bello come nome. Perché... Vabbè, leggenda del lupo... Ok, ma richiamo del lupo più... Dobbiamo far capire che richiami la tua parte oscura. Tra l'altro, il lupo è l'animale che sarebbe Link nella tua light zone. Quindi... Ci sta. Tutta l'ora, tutta l'ora. E finisce il secondo tempo, ragazzi. Bah, insomma. Va tra zero. Vai, contro la protocollo Omega. Metto Darren in porta, perché mi fido. Beta, la mettiamo a posto di Sun. Così, ecco. Perfetto. Icinose e Sakuma. Ah, quindi Eric e Sanford. Più che altro, Jude l'ha messo in campo perché mi serviva da fare il grande fuoco insieme a... Sean e partiva però il grande fuoco da Xavier. Però... Non è un problema. Era giusto per sapere con chi doveva farlo. Perché sì, mi ricordavo Sanford, ma mi sembrava che ci fosse un altro ed infatti c'era un altro. Vai, però, perché si è allevato? Vai, 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 bravissimi. Mi sta sulle scatole la beta avversaria. La mia no, la mia, ce l'ho io beta mia, quindi va bene. Quella degli altri che non mi piace. Perfetto. Perfetto, guardali. Un triangolo amoroso perfetto. Big Gooban! Esplodi potenza del sole. Cioè, no, è un'esplosione già di suo, quindi... Esplode l'esplosione. Boom! Gol! Vai. Questa qui l'ho più che altro sbloccata per la partita finale, contro la squadra finale, che dovrebbe essere fortissima e quindi pararmi tutto. E, insomma, cerco di imparare dagli errori del primo Strikers, che... Io non mi aspettavo una squadra super forte, quella delle ragazze. Ci sono andato un po' alla leggera, un po' troppo. Beta. Bene, con Kenshin e armatura. Potenziamo? Ma sì, vai. Faccio capire chi è che comanda. Chi è che comanda qui? Inchinati davanti al tuo capo! No, muori. Beh, muori, insomma. Diciamo che te la prendi in faccia. Una pallonata sul naso. Senza che fai la rinoplastica. Te lo rifaccio io il naso. Potrebbero esserci problemi col setto nasale un po' deviato. Darren, mi lascio nelle tue mani. Goddo Hando. Oh 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 Perché Mark ci mette la passione Darren no Darren non ci mette impegno e passione Darren che ha copiato Ha emulato Copiato è una brutta parola Ha emulato le tecniche di Mark Senza sapere come farle Semplicemente guardandole Addirittura la mano del colosso Semplicemente guardandola Ha anche più talento Direi di Mark Oltre che la passione Mark è talento Darren è passione Però Cioè vedendo che ha imparato la mano del colosso Solo guardandola Direi che il talento è Darren Più che Mark Però Diciamo che la community decide che Mark è talentuoso E Darren è passione Io dico che è il contrario Ma la community dopo mi dice No Darren non capisci niente Non ti piace veramente una Zoom Eleven Come hanno asserito alcune persone Ma Non ci posso far nulla Infatti io li compro per sport in giochi Capito? Non so come spendere i miei soldi Invece che in bollette No Li spendo in giochi Tanto per Comunque sia 4-0 E stiamo andando tipo Molto meglio di prima Proprio Ver Ah non ho il tiro Vabbè Portier Magneta Quest Sì Vabbè Lascio il tasto Continua a correre Dopo mezz'ora Si ricorda Pattina Mentre Pattina Mentre prepara il tiro Perché qui c'è Tipo un lag Da rilascio Del Majinza Hando No? Mano del colosso Lui l'ha imparata Solo guardandola Il che è lodevole Beta Ti auguro di Non fare gol Tipo Sino Chi ha Un Proprio Un pull Di mali Al tratto Intestinale Allora Darren 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 Io non posso dire nulla Io non posso lamentarmi assolutamente Darren Eccolo 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 Busto Vai Sponda la porta Eeeh Con quale traiettoria brutta 5 a 0 Il primo tempo Ma ancora ci manca Poi Ma chi si racconta A chi si racconta Non ci crede nessuno Ma non ci crede nessuno Yeah Eh Eh guarda Se questo anche fa gol Potremmo anche chiudere la partita In alcune Nella vita vera Mi pare che dopo L'8 a 0 La partita si chiude Specialmente se si è al secondo tempo Ah ok Non ha fatto gol Troppo lontano Va bene Va bene Sì qui conta anche la distanza Della porta Devi essere tipo in area Per fare alcuni gol Con dei tiri particolari Specialmente col tiro Singolo Vabbè Fa vedi dai Cosa hai Allora Questo tira Proprio da una Distanza Immane Non può Assolutamente Assolutamente Fare gol Non è Non è concepibile Vero E infatti Finisce primo tempo Sul 5 a 0 Vediamo Se il secondo Regalerà sorprese O no Che poi Tra l'altro No I personaggi Non li ho neanche Potenziati Con i manuali Perché Non avevo I soldi Per comprarli E Non ho fatto partita Ho solo fatto allenamento Ci ho messo tipo Un'oretta e mezza Per fare il legame Tra tutti e tre Appunto Xavier Jude E Sean Per fare il legame Con il grande fuoco Oh ok Burning Ci sta Ci sta Scusami Se sono entrato Nella tua zona Nella tua ombra L'ho toccato l'ombra Si è incazzata November Dice No Anche in burning Vinco io Va all'inferno Va Chi c'ho a carico Dylan Bene Se lo tengo troppo a lungo Si scarica Cioè si annulla Voglio dire Quindi è meglio Tirarlo appena ce l'hai carico Ti puoi avvicinare un altro po' Magari Se sei tanto fuori Ma Appena attivatelo Cercate di Di Mandarlo via il prima possibile Perché se no E finisce Il secondo tempo Della seconda partita 7 a 0 Proprio nulla da dire Sono contentissimo così Per la prossima partita Penso che manterrò Questa Si la faccio così La formazione Bene Iniziamo Proviamoci subito Tenku Watashi E uno A quanto siamo A un minuto e mezzo Dall'inizio In una partita Vera sarebbe Molto grave Oh Ehi Oh Oh Ehi Zonark Già sta in mix Attenzione Tenta di andare In mix Maxu Ma Ehi È grave Sarebbe un vero Problemino Se ci andasse Eh Sì Jude Era tua Tipo Ok Lui che Aveva lo spirito Lui No Ah sì 3 e special Certo Knight Ok Potrebbe pararlo Con una parata buona Non con forse No con questa no Infatti no Soske Molto bene Molto bene Mi piace Soske Infatti L'ho reclutato Vi ricordo però Che recluto Anche giocatori Che mi chiedete voi Tipo Ad esempio Eh Il giocatore Che appunto Ha Canaglia Illusionista Canaglia Me l'avete chiesto voi E infatti L'ho preso Addirittura Volevo prendere Altri giocatori Di un'altra squadra Senza dire quale Vorrei portarli Nel prossimo torneo Uno però ve lo dico Uno è Witz Che è molto forte Vorrei provare Vorrei provare a portarlo Oddio Forte In teoria Su Galaxy Con il Miximax Adatto Qui non mi pare Tanto forte Però Mi piace Ganymede Rei Raggio fotonico Vediamo Dai che non ce la fai Dai che non ce la fai Vedi Ah Devo andare in Miximax Con lui Giusto Ah 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 Chi vince L'esplosione Miximax O Il Burning Burning Aiuto Niente Il contrasto Proprio inutile Eccolo Ah non ha Lo spirito guerriero Lui Eppure Pendragon Un po' mi dispiace Ah No Non devo risvegliarlo Perché lui risveglia Il Miximax risveglia Forse non gli hanno messo Dovrei controllare Nei tiri speciali Dovrebbe averlo comunque Nei tiri speciali Devo solo attivarlo Ma dove Che ero distante Un metro C'era il distanziamento Un metro Era E infatti Vedi no Jude si è arrabbiato L'ha detto Era il distanziamento No No Arranzati proprio C'era la flamma No la flamma C'era la valkyria Brunhilde Perché ripeto I giapponesi Non sanno parlare Vabbè tira Zanark Date una mossa Breku Però questo non è bello Quello bello E un altro Great Maxon Aura Dai su Para Re del fuoco Quanto è bella Sta tecnica Dell'anime Poi per fortuna È rappresentata bene Perché se la rappresentavano male Era proprio un errore Imperdonabile Uruf leggendo Proprio velocissimo Urra Oh oh Sandokan Buono buono Ragazzi 5 a 0 Mi potrei anche fermare Guarda Anche a costo di sclerare Spero che le prossime partite Siano un pochino più difficili Magari le prossime Alla fine Quello intendo Le prossime finali Però intendo quelle finali Bella Bella Una goduria Di quelle indescrivibili Io sarebbe bello Protrarre questa goduria Per tutto La fine del primo tempo In fondo Non manca molto E siamo proiettati Verso il secondo Con la vittoria In the bag E con Rusei Blado Sigliamo Questo accordo Una firma qui Una firmetta lì Ancora Punti Tecnica Una sigla E le iniziali E para Si vabbè L'ha levato Perché è stupido Polvere da sparo No 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 Basta Shoot or break Basta Shoot break Non mi scompongo mica Si mi ero incantato Si Ma che qua mi hanno ucciso Ma senza motivo No Le dico Non è che mi ero incantato Perché non sapevo cosa fare Mi ero proprio impuntato io A tenere premuto la direzione Non volevo Passarla O far scadere il tempo No Far passare un po' di tempo Perché alla fine ragazzi È inutile Continuare a giocare E a consumarsi I punti Senza motivo Cioè Sta per finire Il primo tempo Facciamolo scadere Così Guarda Sposto lui Qui E così Bene Almeno se vado sulla fascia Posso provare a tirare Perfetto Vediamo quanto durano Ah durano un bel po' Penso che Per sette secondi Possano durare Sì Almeno sette Quindi potrei portare Loro tre Se non c'è Quando non c'è nessuno Mi sto facendo Un po' di conti Per Per il grande fuoco A meno che Non faccio una formazione Con le tre punte Che avanzano insieme Devo trovarla però Bella Mi piace Mi piace tantissimo Quando si annudano A vicenda Screwdriver Va bene Cacciavite O giravite Se siete Profumati Dai Tira Ti prego Tira Non è Impossibile Quando Ti Quando ti impunti È sicuro che non riesci a rubare palla Aga blade Va bene Se ti piace Era carina come tecnica Non so in italiano come si chiama E se lo so non me la ricordo Ha fatto lo scherzetto Aspetta 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 Bene Dovrei riuscire a spazzarlo via Spazzalo via Fammi questo enorme favore Come no Ma nel gioco succede Più o meno Nel gioco classico Raframu Ma te pozzi no Arbitro Ma dov'è l'arbitro Oh Ma cosa è dell'altro mondo Cioè mi dà una gomitata Sulla schiena E l'arbitro non interviene No Ero io Sì Bene Ah c'è un attimo Dico Eh Sinfonia polifonica Guarda come corre Oh che bellezze Sì là si chiamano Tra Mark e Dylan Ah non è punti per farla Lo sono accorto tardi Ah ok Davvero Uragano bianco Direi che a sto punto È bella che è finita Anche fanno gol Sì vabbè ma che è qua Ma che tiri avete Uragano bianco Tiger Drive Eh Eh sì Ne sanno una più del diavolo E beh Attenzione però Lì ancora non è carico Attenzione 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 Zannark Potrei essere in difficoltà Oppure no Se c'era Darren Mi sa che Un bello schiaffello in faccia Se lo prendeva tutto Ok no no Se non carica a tre È inutile che mi faccia illusioni Certo Certo A volte le tecniche Combinate Hanno meno Dispendio di punti Di altre Di livello 3 Però In questo caso no Ah cavolo Finita 9 a 0 Molto buono Beh che dire Ah il trofeo Bello Carino quel trofeo Ragazzi Ragazzi anche questo video Può terminare qui Oh Kizuna aumentata di tutti Oh yeah Un po' di soldini L'abbiamo fatti Che bellino Allora 1 2 E 3 Siamo davvero Indirittura D'arrivo Però la prossima Sarà Tosta ragazzi Abbiamo Ogher Team Zero E distruttori Questa Pareggia fatta E poi avremo Questa Non vedo l'ora Non vedo l'ora Bene Io come sempre Vi ringrazio per aver seguito il video Vi ricordo Che in descrizione C'è il link Per Instagram E Discord E se ancora Non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video E mi raccomando Ditemi Chi volete vedere Bye bye Ciao Ciao Ciao